Dobbiamo essere onesti, avremmo preferito vincere la Fiorentina anche se nel secondo tempo ha pagato tazio perché una squadra non può avere quell'atteggiamento lì. Forse doveva fare dei cambi diversi, doveva dare un assetto tattico molto chiaramente diverso alla squadra ma questo è sempre il senso del poi. Però la Fiorentina mi era piaciuta nel primo tempo, quello sì. Il secondo tempo no, è salita molto l'Atalanta, ha cominciato a giocare, a metterti un po' più in difficoltà tant'è vero l'abbiamo sottolineato, Sportiello già nel primo tempo ha fatto un paio di parate strepitose e nel secondo tempo è stato aggecanteggiato perché senza Sportiello la partita la Fiorentina l'avrebbe persa con un altro portiere stasera l'avrebbe anche persa la partita. Quindi alla fine, nonostante tutto, portiamo a casa questo punto con la consapevolezza che certi errori non li puoi commettere, certe scelte andrebbero fatte con un po' più di attenzione secondo me. Ma è una Fiorentina che deve crescere, sta crescendo, lo stesso Pioli deve capire come sfruttare al meglio alcuni giocatori. Sono stato un po' così, diciamo che la squadra dell'Atalanta ha vinto sicuramente più duelli nel secondo tempo nel primo tempo la Fiorentina l'aveva vinta, è tanto vero che il gol di Chiesa era arrivato proprio su un suo duello personale nel secondo tempo non abbiamo giocato più da squadra e questo è quello su cui si deve lavorare molto.